Traguardo storico per la Frata Nardò. Grazie al 3-1, inflitto nella Serie al meglio delle 5 alla Luis Roma, la formazione Granata cede alla finale play-off per la Serie A2. Un traguardo straordinario per il club di Fabrizio Durante e per il tecnico emergente Michele Battistini, capace di dare una sterzata alla sua squadra dal suo arrivo. Prima il terzo posto in regular season, poi i quarti di finale 20 contro Ancona e infine il successo nella capitale. 70-85 alla Sirena per Capitan Biedic e compagni in una partita ma in discussione. Ben 10 i giocatori al referto per il Toro, emblema di una squadra forte anche per una rotazione lunga e di qualità. Primo appuntamento per la finale fissato a domenica 13. Arriverà al Palapasca la blasonata Roseto, fresca di un 3-0 alla favorita Real Sebastiani Rieti. Il sogno di Granata continua. Nulla da fare invece per il cussionico Taranto. Cividale mantiene il fattore campo e supera per 3-1 la compagine di Davide Olive. Serie bellissima quella tra Friulani e Ionici ma che alla fine premia gli uomini dell'esperto coach Pilastrini, trascinati da un Leonardo Battistini in formato super. Taranto che saluta i play-off ma che potrà fare affidamento su diversi spunti positivi in vista della prossima stagione. Il Cigold intanto risa nota la finale regionale. Saranno di Basketmola e Virtus Molfetta a contendersi la possibilità di restare in corsa per la Serie B. Spareggio per la salvezza invece tra Monteroni e Nuova Matteotti Corato. Salva la libertà a Saltamura.